Vadia Prataglia, un piccolo centro della provincia di Arezzo che si trova in Casentino e la cui popolazione residente al netto di seconde case e pendolari conta circa 300 anime, sta per accogliere dai 70 ai 100 immigrati. La decisione di accogliere l'hotel Bella Vista, finora praticamente chiuso queste persone, è stata della prefettura che ha scelto la struttura ovviamente con regolare procedura, ma il punto è un altro. Può essere questa considerata un'eccessiva concentrazione, visto che tra i principi dell'operazione Mare Nostrum c'era appunto la non concentrazione per evitare la ghettizzazione dei vari territori ospitanti. La domanda se la sono posta anche ai consiglieri regionali e consigliari di Fratelli d'Italia che si sono recati a Vadia Prataglia per sondare l'opinione delle forze dell'ordine, tre i carabinieri presenti al comando del paese e della popolazione. Io mi chiedo, visto che comunque spenderemo per queste persone oltre 40 euro al giorno in cui ci saranno persone che gli rifanno le camere e loro non muoveranno un dito alla mattina e alla sera, mi chiedo se non c'è qualcuno di questo territorio che aveva più bisogno di 40 euro al giorno. Oggettivamente le istituzioni con questo atteggiamento rischiano di creare una guerra tra poveri che non conviene a nessuno, non conviene né agli italiani né agli immigrati. Oggettivamente qui chi dal comune, la provincia, la regione, il governo, il Presidente della Repubblica, sempre il solito partito a governare, il PD, si prendono le responsabilità gravissime perché rischiano di, in un momento di crisi in questo modo, rischiano di creare dei disagi sul territorio gravissimi. Anche perché poi anche come numeri, oggettivamente vista la pressione demografica è inaccettabile, la proporzione rischia di essere uno ogni tre persone. Oggettivamente è difficile sostenerlo, è difficile anche pensare che siano poi dopo accolti con entusiasmo dalle persone. Dal punto di vista proprio del Casentino, lei mi diceva c'è proprio una richiesta da parte dei consiglieri di minoranza nei confronti dell'Unione dei Comuni del Casentino per diciamo aprire questo confronto a livello proprio pubblico e di tutta la vallata. Certo, logicamente noi diciamo come partito politico, ci tengo a sottolineare, noi come partito politico in Casentino ci siamo già espressi ai tempi delle problematiche inerente a Montemegnaio. Abbiamo sempre scelto di fare una linea chiara, una linea chiara che è la linea quella diciamo della critica a Mare Nostrum e di tutti i suoi aspetti che ad essa derivano. Al tempo stesso è una linea che deve essere comunque una linea di responsabilità, non vogliamo cavalcare il disagio dei cittadini e ci siamo posti da partito politico anche al confronto con le minoranze in Casentino che sono svariate liste civiche e con queste liste abbiamo attivato un confronto proprio poteso a trovare la soluzione ai problemi che riguardano i cittadini perché noi abbiamo come prioritario il problema dei cittadini. Ieri andai a Baria Prataglia, mi sono confrontato con tante persone, persone comuni, persone della strada, persone incontrate a bar e di fronte a questa situazione i giudizi, le valutazioni vanno al di fuori di quelle che possono essere delle idee politiche ma si tratta molto spesso di attivare un buon senso che sembra che in Italia ultimamente non sia più presente nelle scelte politiche.